Allora, cosa dovete aspettarvi da questo disco? Non saprei dire, diciamo, che potete aspettarvi qualcosa, un manifesto molto diretto, fluido e significativo su quella che sono, sulla mia provenienza forse, ma soprattutto sulla mia contaminazione. E 2640 perché è l'altitudine di Bogotà, luogo dove volevo scappare, luogo che non ho mai visto in realtà, ma che in realtà è sempre stato con me in quest'anno, perché comunque se volevo scappare era perché avevo dentro comunque qualcosa che avevo bisogno di trasformare in musica, che è sempre il modo migliore che ho per comunicare. E quindi il fatto che adesso io sia qui, con questo disco in mano per voi, è perché comunque, cioè, alla fine sono rimasta e ho lasciato che il vulcano che avevo dentro eruttasse tutto quello che dovevo eruttare. Questi brani scritti da me e anche con appunto amici e artisti che stimo sono nati perché c'era una voglia di dire esattamente tutto quello che avevo dentro e di raccontare un po' la mia storia, tante sensazioni che ho vissuto e cercare di tradurle nella maniera più diretta possibile. Ci sono dei brani in particolare a cui sono molto legata, che sono Comunicare appunto, che è il manifesto programmatico del disco, il primo brano della tracklist, che racconta appunto tutta la mia vita dagli 0 ai 22, per cui ho coinvolto tanti amici, parenti e un sacco di persone a me care, con dei messaggi vocali da varie parti del mondo. Poi c'è la serie B, ispirata alla tragedia sentimentale che ho sentito quando il Vicenza è retrocesso in serie B e rappresenta un po' questa cosa del fatto di sentirsi retrocessi in una relazione, quando ci si sente proprio allenati per sostenere una relazione che non ha proprio più senso, non ha più sostanza. E l'ultimo, ma non l'ultimo, brano a cui sono molto molto legata è Tapioca, perché racconta la mia infanzia, la mia adolescenza un po' multietnica, a contatto principalmente con la comunità ganese di Bassana di Grappa, delle domeniche a base di riso, involtini di carne e ovviamente tapioca, di tanti momenti appunto condivisi insieme, in cui ho proprio sperimentato l'importanza dell'incontro e di riuscire appunto ad ascoltare, a comunicare. Il tour parte il 16 marzo da Parma, come data zero, ma ufficialmente si suona al Fabric il 17 marzo di Milano, Fabric di Milano, e beh, quello che posso dire è che sarà un tour abbastanza rock and roll, abbastanza tribale, ma anche molto elettronico, anche molto digitale. Suoneremo tutti un po' tutto, siamo un quattro sul palco, quattro giovani, baldigiovani, liberi, indipendenti, che appunto, insomma, speriamo vi faranno divertire, perché siamo super super gasati.